Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha partecipato all'iniziativa di ascolto e di confronto Sud, progetti per ripartire promosso dal Ministro per il Sud della coesione territoriale, Mara Carfagna, in vista dell'elaborazione definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Accordo di Partenariato 2021-2027. Nel suo intervento il Presidente Marsiglio ha ribadito che oltre alla questione meridionale va affrontata anche quella che riguarda la coesione territoriale, una problematica che coinvolge tutte le regioni adriatiche che si trovano anche ad affrontare le difficoltà di programmazione che sorgono tra le aree interne e quelle pianeggianti e costiere. Sotto questo aspetto, ha sottolineato Marsiglio, va superato il totem del rapporto costi-benefici che altrimenti non porterebbe investimenti nelle aree appenniniche meno popolate. Per favorire gli investimenti sui territori, il Presidente della Regione Abruzzo ha inoltre evidenziato che bisogna lavorare sull'eccessiva stratificazione della fase progettuale. Non servono leggi speciali, ma basta seguire un esempio già utilizzato in occasione degli interventi per realizzare la rete ospedaliera Covid utilizzando le leggi di semplificazione che già esistono attraverso l'utilizzo di appositi commissari, interventi che darebbero un notevole impulso alle economie del territorio.